Siamo alle Final Four di Nations League di nuovo, fuori tirano a brutta aria di maltempo e allora questo è il momento giusto per ripropinarvi le cose che vi ho detto in un video circa un anno e mezzo fa agli inizi di Youtube, quando Youtube ancora non vi avevate oltre 300 iscritti quindi iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi piace, se non vi piace fatemi sapere il perché il perché io sono ancora, sempre e convinto, Mancini Out Allora, vi lascio anche i video poi nelle schede di qua, dappertutto dei video in cui ho parlato di questi possibili risvolti tecnico-tattici che poteva adottare la nazionale per non fare le figuracce che ha fatto, oltre all'europeo si intende, ma ci sono state altre figuracce altrettanto degne di nota secondo me Perché sono Mancini Out ancora? Innanzitutto perché qualsiasi allenatore dopo un fallimento del genere, mi riferisco a Colla Macedonia avrebbe dovuto fare le valigie e andarsene tanto il lavoro non gli manca perché Mancini è un bravo allenatore a dispetto di quello che io possa dire poi è un bravo allenatore e questo l'ho sempre pensato e anzi, l'ho sempre sostenuto fino alla fine degli europei anche quando c'erano convocazioni strane vi ripeto, è tutto testimoniato andatevi a rivedere i video quando convocava Bernardeschi e non Politano quando ha iniziato Grifo alla nazionale Grifo di cui sono stato sempre un sostenitore e quindi per me Mancini è un grande allenatore sa quello che fa dopo l'europeo ha smesso di sapere quello che stava facendo e ci ha trascinati nel baratro della seconda esclusione consecutiva dai mondiali ecco, a differenza di Ventura che era più, oltre che le sue colpe evidenti ma li parliamo di limiti di Ventura che è stato messo la colpa era più di chi l'ha messo lì mentre per Mancini io do, lo sapete quasi tutte le colpe a lui di quello che è successo avevo detto in precedenza anche all'europeo che questa era una nazionale perfetta per giocare con la difesa a tre perché? innanzitutto i tre centrali qualsiasi siano all'epoca c'era anche Chiellini potevano essere Chiellini, Bonucci, Toloi lo stesso Acerbi e anche alcuni Braccetti come poteva essere Di Marco ma lo stesso Mancini Mancini Roma potevano essere impiegati perfettamente nella difesa a tre i giocatori abituati nel loro club a giocare a tre e interpreti perfetti di questo modulo esterni di centrocampo volendo più che terzino l'unico terzino puro è Di Lorenzo che può fare anche tranquillamente l'esterno di centrocampo bene e l'abbiamo visto ma c'erano e ci sono i vari Lazzari c'è Di Marco che abbiamo visto ma ci sono usciti anche i Udoji c'è lo stesso Spinazzola lo stesso Emerson Palmieri che io ho tanto criticato e che continuerò all'infinito a criticare e finalmente non lo vediamo più è molto più adatto a fare un esterno di centrocampo a cinque piuttosto che un terzino che non fa bene né quello né quello è troppo facile adesso dopo due anni fare l'esperimento dopo i fallimenti e dopo la tanto decantata riconoscenza a chi ha vinto gli europei ma lo stesso Immobile il tanto vituperato da tanti e da me Immobile all'epoca giocava ancora nell'attacco a due alla Lazio ed era molto più indicato a formare un tandem d'attacco piuttosto che un tridente d'attacco dove rende poco adesso rende tanto con Sarri ma perché il gioco di Sarri è diverso il gioco di Mancini ha dei concetti tattici che per la prima punta diventano un po' più complicati se sei Immobile e per le caratteristiche di Immobile c'è lo stile che a me non piace un giocatore nazionale non segna mai segna solo nei contesti bla 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 queste sono cose trite e ritrite che io vi spammerò sempre se non la pensate come me amen chapeau come direbbe qualcuno avevo a suo tempo invocato il tridente del sassuolo ovvero Raspadori Scamacca Berardi quando c'erano ancora le prime abisaglie di un Raspadori on fire e di uno Scamacca on fire si poteva giocare così semplicemente perché si conoscevano nulla togliendo i vari insigni Immobile no Immobile togliendo qualcosa almeno da parte mia si poteva giocare così perché scendevano in campo già preparati a quello che i compagni potevano o non potevano fare invece no si è scelto una via agli europei che io ho sposato alla fine e lo sapete perché ci sono le live video analisi per partita quindi ho sposato tutto quello che ha fatto Mancini all'europeo ecco tranne qualcosina tranne a volte gli criticavo per esempio di non far uscire alcuni giocatori sul risultato acquisito ma vabbè piccolezze dopo l'europeo non ci ha capito più niente allora tu dopo l'europeo dovevi sferzare dovevi andare in un'altra direzione che poteva essere una delle due il tridente del sassuolo oppure il 3-5-2 e in ogni caso dovevi comunque rinnovare dovevi inserire questi giocatori piano piano mi viene in mente Di Marco che ieri ha fatto una gran partita ma poteva essere c'è veramente tanta tanta roba dalla quale poter attingere mi viene in mente lo stesso Parisi ecco per esempio in Under 21 sono stati portati sia Parisi che Udogi che giocano sulla stessa fascia va bene che li vuoi portare in Under 21 ma perché entrambi portano uno e uno alla nazionale maggiore piuttosto che poi Di Marco ha fatto una grande partita per carità a me Di Marco piace tantissimo però perché 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 e insomma questo si è voluto troppo trovare la scusa del calcio italiano che non dà il giusto valore ai talenti emergenti cosa vera i settori giovanili che non funzionano cosa vera ma per battere la macedonia c'era tutto il materiale possibile a disposizione per variare ma non solo parlo della macedonia parlo anche dei gironi di di qualificazione così come delle final four di nations league che giocavamo in casa e in cui siamo stati stuprati e presi a schiaffi e mi ricordo ancora ieri Mipino che Emerson Palmieri lo sta ancora cercando magari magari e dico magari con un Parisi con un Parisi ma potrei citarne tantissimi li ho citati Simone Bastoni tanti che possono ricoprire quell'uro magari avrebbero fatto un po' meglio ecco e c'era Jeremy Pino non c'era Mbappé per dire con questa squadra adesso con un asetto tattico differente con forze nuove ma che non sono nuove c'erano già si poteva tranquillamente si potevano tranquillamente battere quelle squadre visto che in un girone della morte diciamo così siamo arrivati i primi e anche la stessa bistrattata Ungheria abbiamo visto che è una nazionale molto molto importante e molto preparata e l'avevamo visto già in realtà in passato quindi cosa imputo io a Mancini in questo il non aver voluto cambiare l'aver voluto proseguire con i suoi uomini cosa sbagliatissima perché bisogna rinnovare soprattutto dopo una sconfitta soprattutto dopo una vittoria come quella dell'europeo che non è arrivata schiacciando gli avversari parliamoci chiaro è arrivata da Italia come sa fare l'Italia da squadra facendo emergere i giocatori più importanti e bisognava però gradualmente inserire tutti quanti invece si è continuato con gli immobili con i bellotti con gli insignie con gli Emerson Palmieri e si è fatta la fine che abbiamo che abbiamo conosciuto tutti fatemi sapere cosa ne pensate voi perché ci tengo tantissimo a questa cosa e ci tengo a ripropinarvi quello che vi ho propinato un anno e mezzo fa queste sono parole che io ho speso un anno e mezzo fa in cui profetizzavo la difesa a tre per questa squadra che è il sistema di gioco più congeniale al di là di quello che può essere il tridente di quello che possono essere altri inserimenti in attacco il centrocampo a tre va benissimo altra cosa che vi propinavo era il cristante in mezzo al campo che ha fatto due ottime partite se lo mettiamo a giocare dove lui sa giocare è una pedina molto importante e allora perché ci siamo ridotti a questo di nuovo alle final four di Nations League tanto di cappello andiamoci a giocare e vediamo ci sono una Croazia mi sembra ci sia la Danimarca e una tra Spagna e Portogallo che adesso non mi ricordo si può vincere tranquillamente se non si vince non è un dramma l'unico dramma è non andare al mondiale per la seconda volta consecutiva e per questo io la colpa la do sempre a Roberto Mancini grazie a tutti